Cari lettori di Extreme Hardware, precisiamo immediatamente che questa è semplicemente una news in cui riportiamo, in anteprima, i same poll appena ricevuti da Silverstone Technology. Stiamo parlando del cabinet Mini ITX HTPC ML05, una soluzione veramente interessante che osserveremo brevemente nel corso di una specifica recensione, ma abbiamo ricevuto anche all'occasione l'alimentatore SFX 450W, una soluzione SSF. Quindi in sostanza con questo modello che utilizzeremo per testare a livello termico anche queste soluzioni di cabinet. Questo alimentatore quindi è interamente modulare, 80 plus gold, 450W con 37A di combinata sui 12V. Una soluzione veramente interessante. A tal proposito faremo una video recensione di questo modello ed anche una video recensione dell'ML05. Cosa abbiamo qui? Abbiamo invece dei LED LS01 Brilliant LED Light Strips in colore blu. Ovviamente questa è una piccola miglioria che verrà utilizzata sui prossimi cabinet che recensiremo di questo modello. Sì, per stando. Usiamo qui la parentesi. Se avete richieste particolari per il modello SFX da 450W, l'ML05, vi invitiamo a farli presenti adesso perché è in corso la recensione, quindi siamo a vostra disposizione qualora fosse necessario. Buona giornata a tutti.